...i soggetti, obbligo il timore a perdere i soggetti, cioè abbiamo in un tutto ristretto, confido con misure e cautelare personali, 17 persone. E' un'operazione, come vedendo poi i colleghi, il colonnello turista in particolare, che gira attorno a due soggetti, uno già conosciuto a questa autorità offiziaria e alla Guardia di Finanza, che vedo ancora, è noto perché è stato il protagonista di vicende produttive nell'ambito dei rapporti.